All'inizio di cazzo, il 3.0 alfa velocità 89, 54, delle 11 e 44, proveniente da Napoli, c'è strada e diretto a Bolzano, arriverà dopo il caldo previsto di 30 minuti. All'inizio di cazzo, il 3.0 alfa velocità 80, 55, delle 11 e 44, proveniente da Napoli, c'è strada e diretto a Bolzano, nelle ore 11 e 17, 22 e 24, 10 e 24, proveniente da Napoli, c'è strada e diretto a Bolzano, all'inizio di cazzo, il 3.0 alfa velocità 80, 55, delle 11 e 24, proveniente da Napoli, c'è strada e diretto a Bolzano, arriverà dopo il caldo previsto di 30 minuti. Trenitalia, delle ore 15 e 15, proveniente da Napoli, c'è strada e diretto a Bolzano, arriverà dopo il caldo previsto di 30 minuti. Treno regionale 16.1.1.0, di Trenitalia, delle ore 10 e 29, proveniente da Bassano del Graffa, è in arrivo al binario 1 Tronco Sud. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16.9.2.5, di Trentino, trasporti, delle ore 10 e 05, per Bassano del Graffa, è in partenza dal binario 1 Tronco Sud. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Il treno regionale 16.6.3.8.1.0, di Trenitalia, proveniente da Bolzano, è diretto a Rovereto, delle ore 9.56, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16.6.3.8, di Trenitalia, proveniente da Verona, Porta Nuova, è diretto a Bolzano, delle ore 9.52, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a mezzo in corona, ora. Il treno regionale 16.6.6.7, proveniente da Bolzano, è diretto a Verona, Porta Nuova, delle ore 9.37, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Lugio ricardo. Il treno regionale 16.6.6.7, di Trenitalia, delle ore 9.35, proveniente da Bolzano, è diretto a Verona, Porta Nuova, arriverà con un ritardo previsto da 10 minuti, diversamente da quanto già annunciato. Salve. Salve. Lei di concedere il macchina da un punto basso piano. Il treno a velocità tricia rossa, 97, 21 di Trenitalia, proveniente da Bolzano e diretto a Milano Centrale, ed è ore 9.19 e in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma il ferito per una forma nuova, vestiera del Garda, Brescia. Canozze dalla 8 alla 5 al treno, dalla 4 alla 5 al centro treno, dalla 6 all'8 al testo treno. Regionale 16, 6, 7, 4 in Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova e diretto a Bolzano, ed è ore 9.32 e in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma il ferito per una forma nuova, Treno regionale 16, 1 per 8 in Trenitalia, ed è ore 9.29, proveniente da Bassano del Graffa, ed è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, firma il ferito per una forma nuova, Grazie. 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 Grazie.